E guardate che bello amici, la Wii, la Wii, la Wii alla fine è una cosa semplice, un po' da deficienti, però non è male, ci vuole lo spazio, qua di spazio ce n'è veramente tantissimo, è un terrazzone, allora? Sì, tanti giochi, si sborra, si sborra un mucchio con la Wii, questo che cos'è? Tiro con l'arco, lo faccio vedere, scompratele la mastardi, pezzi di merda.